La procura di Caltanissetta ha chiesto la condanna a dieci anni e sei mesi per Antonello Montante, l'ex presidente di Convindustria Sicilia, accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Il processo, nei confronti dell'ex apostolo dell'antimafia siciliana, si celebra con il rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Caltanissetta, Graziella Luparello. Chiesta una sola assoluzione per Alessandro Ferrara, dirigente della regione siciliana. Al termine della requisitoria, durata cinque udienze, il procuratore Amedeo Bertone, che insieme ai PM Stefano Luciani e Maurizio Bonaccorso rappresenta la pubblica accusa, ha sollecitato pene pesanti per cinque dei sei imputati. Alla sbarra, oltre a Montante, Gianfranco Ardizzone, ufficiale della Guardia di Finanza, per il quale sono stati chiesti quattro anni e sei mesi, Marco De Angelis, funzionario della questura di Agrigento, per il quale vengono chiesti sei anni e undici mesi di carcere, Andrea Grassi, attuale questore di Vibo Valencia, a due anni e otto mesi di reclusione, Diego De Simone, responsabile della security di Confindustria, per il quale la procura chiede sette anni e un mese di carcere. Sono tutti accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, finalizzata alla corruzione, alla rivelazione di segreto istruttorio al favoreggiamento. Secondo l'accusa Montante, che dopo avere trascorso quasi un anno in carcere e si trova adesso agli arresti domiciliari, avrebbe cercato di ottenere notizie riservate sui profili di alcune persone di suo interesse in media. Come spiegato dai pubblici ministeri, durante la requisitoria sarebbero stati effettuati nove accessi abusivi ogni tre mesi, per un arco di sette anni, per cercare informazioni anche riservate su alcuni collaboratori di giustizia, sull'ex presidente dell'IRSAP, Alfonso Cicero, parte offese e parte civile, e il magistrato ed ex assessore regionale Nicolò Marino, per la procura di Caltanissetta. La catena di fuga di notizie sarebbe stata alimentata da alcune talpe istituzionali, appunto gli imputati. Mentre noi lavoriamo di giorno, qualcuno di notte disfaceva le indagini, ha denunciato il pubblico ministero Luciani durante la requisitoria Fiume. Montante, come emerso durante la requisitoria, è ancora indagato dalla procura di Caltanissetta per concorso esterno in associazione mafiosa. La requisitore dei pubblici ministeri Luciani e Bonaccorso è iniziata dalla posizione di Grassi, attuale questore di Vibo Valencia, all'epoca dell'inchiesta, funzionario del servizio centrale operativo della Polizia di Stato. Il dirigente è accusato di aver fatto filtrare la notizia dell'indagine condotta dalla squadra mobile Nissena su Montante. Per rivelazione sono indagati anche l'ex capo dei servizi segreti Arturo Esposito, l'ex presidente del senato Renato Schifani, il tributarista palermitano Angelo Cuva e l'ex capocentro della via di Palermo, il colonnello dei carabinieri Giuseppe D'Agata, che hanno scelto di essere giudicati con il rito ordinario.